Buongiorno a tutti ragazzi, da Zebra, buongiorno. Nuove voci di mercato, giuntoli si muove, giuntoli comincia a muovere le pedine. Si parla moltissimo in queste ore di pellegrini, rovella, ragazzi. E poi andiamo a parlare un attimo perché sento molti youtuber e non solo che si lamentano. Rovella non deve partire, rovella così, rovella colà, alcuni pezzi non devono partire. E questo vi vado un attimo ad andare a ripassare perché forse in molti di voi qualcosa non è chiaro. Ma mi raccomando ragazzi, prima di continuare, iscrivetevi al canale. Ragazzi, molti di voi si vedono i miei video ma non si sono iscritti. Iscrivetevi, non vi costa nulla, veramente ragazzi. Non vi costa nulla, iscrivetevi al canale. Allora ragazzi, partiamo un attimo da pellegrini. Pellegrini che viene richiesto ancora dalla Lazio, principalmente da Sardi, che lo rivuola alla Lazio. Il ragazzo vuole raggiungerlo, si presume che sia anche tifoso della Lazio. Quindi lui vuole approdare lì perché sa comunque se dovesse rimanere alla Juventus, ma la Juventus lo vuole spingere fuori, ma se dovesse averlo non avrebbe spazio. Quindi lui giustamente spinge per andare alla Lazio. C'è un'altra squadra estera che lo vorrebbe, ma non ricordo chi nello specifico, ma lui preferisce andare alla Lazio. Quindi vedremo cosa accadrà. Il discorso è che Lotito vuole spendere poco, braccino corto, come al solito. Quando gli vai a chiedere un suo giocatore ti spara alto, poi quando lui deve chiedere a noi ti dà le briciole. Caro Lotito, non funziona così. Se vuoi devi pagare anche tu. Se no, stati a casa tua, tieniti i tuoi soldini e fai il campionato da poveraccio. Che sei, tra l'altro. Perché mi dispiace ragazzi, però vuole tutto per lui. E questo non va bene. E questo non va bene. Però ragazzi, nell'ottica Lazio, ci sarebbe anche la richiesta. È stata fatta anche per Rovella. Rovella, che è la Juventus. Ancora non ho capito se questo giocatore ha un progetto all'interno della Rosa, della Juventus stessa, o va sul mercato. Per me è sul mercato. E Rovella, che secondo me, non è convinto neanche lui di rimanere alla Juventus. Perché non ha la certezza di avere il posto da ridolare. Purtroppo ragazzi, su questo sono d'accordo. Io credo, a me piace tantissimo Rovella. Rovella che nel Monza ha fatto la differenza. Con Palladino ha fatto la differenza qualitativa al centrocampo. Un centrocampo che grazie a Rovella ha giocato una meraviglia. Cioè, Palladino, asufruendo delle prestazioni di Rovella, ha reso tutta la squadra, alzando la competitività della squadra. Quindi questo grazie a Rovella, perché a un certo punto ha spadoneggiato. Certo, il difetto di questo ragazzo, che tende ad infortunarsi, e i tempi sono sempre abbastanza lunghi. Però ragazzi, dobbiamo ammettere che le qualità di questo ragazzo sono importanti. Ecco perché io preferirei averlo all'interno della Juventus, in cui lui può ricoprire più ruoli, ma principalmente quello di regista, quello davanti alla difesa, in cui a noi manca. Sì, abbiamo fagioli, ma Rovella, secondo me, è come se avesse più esperienza. Ha più, non lo so, dinamicità in quel ruolo. Quindi lo vedo molto, ma molto bene. Però la Juventus, ragazzi, e qui voglio tornare al discorso che molti di voi dicono, Rovella non deve partire, Vlaovic non deve partire. Allora, ragazzi, può anche essere che la Juventus stia facendo di tutto per tenere anche... Se non dovesse partire Vlaovic, fa partire alcuni giocatori, tipo Rovella. Adesso abbiamo visto anche Zaccaria, che è riuscito a piazzarlo, finalmente è riuscito a piazzarlo. Circa 21 milioni di euro. Miracolo, miracolo, ragazzi. Un altro giovane, non mi ricordo chi, non mi viene, non mi viene, intorno ai 10 milioni di euro. Insomma, sta cominciando a piazzare molti colpi e meno male, meno male che è giunto lì, sta avendo questa capacità di smaltire questa rosa e quindi di incassare. Perché no? Potrebbero arrivare lì i soldi per impinquare le casse della Juventus, che, lo ripeto, deve rispettare paletti ormai, deve rimettere all'interno della società denaro da qualche parte, deve entrare in cessione di Vlaovic, in cessione di Chiesa, se non sono loro, alcuni giocatori promettenti purtroppo, ahimè, tipo Rovella, tipo Rovella, per fare cassa e per metterci forse, forse, ripeto forse, perché secondo me comunque, anche se tu dovessi vendere tutti i giovani della Juventus a determinate cifre, se dovesse arrivare una cifra denunciabile o per Chiesa o per Vlaovic, partono. Ma può anche essere la strategia della Juve, se dobbiamo tenere loro due, quindi coloro che comunque hanno impregio e anche dei stipendi abbastanza pesanti, vendiamo coloro che fanno cassa per permetterci anche di mantenere. Però ragazzi, io da qui mi aspetto anche un colpo almeno al centrocampo, un colpo al centrocampo, ma non solo, anche si parla di Carlos Augusto, che è giocato terzino sinistro, che ha giocato col Monza, ha un'ottima qualità, è molto più affidabile dello stesso Alexandro, un ragazzo fisico, corre tantissimo, sa difendere, sa avere interdizione con i compagni, insomma, è un giocatore a 360 gradi che su quella fascia fa sicuramente la differenza rispetto a quelle che abbiamo attualmente. Certo, ragazzi, io non lascerei partire a Cambiasso, a me piace tantissimo come ragazzo, però nella Juventus deve ancora crescere e ha la possibilità di intercambiarsi eventualmente con Carlos Augusto. Quindi, e al centrocampo voglio un nome pesante, non dico di totti milioni, ma un giocatore che abbia un minimo di esperienza, un minimo di qualità, perché io ho dei dubbi, seri dubbi sul ritorno di Pogba, quindi la Juventus si deve riguardare anche da questo, perché non ha la certezza che Pogba possa tornare. Quindi ci sono i movimenti lì davanti, però ragazzi, ripeto, questi giocatori che sembrerebbero sul mercato, che potrebbero partire, e la Juventus quindi rinunciare anche a giocatori giovani di potenziale di futuro, però ragazzi dobbiamo metterci e capire che la Juventus dovrà fare dei sacrifici. La Juventus in qualche modo deve incassare dei soldi, o da Vlaovic o da questi. Quindi non possiamo stare a ogni video a dire no, quello non deve partire, quello non deve partire. Le cose sappiamo come stanno, quindi ci dobbiamo guardare in faccia, sappiamo che le cose stanno in questo determinato modo, e quindi non ci possiamo fare nulla, nulla. Quindi un sacrificio deve esserci. Punto ragazzi, punto. Questo è tutto, questo è tutto. Quindi mi raccomando, come sempre, vi chiedo a iscrivervi al canale, lasciate un bel like, ditemi la vostra, voi chi terresti, chi fareste partire, ditemi come sempre la vostra, perché per me è importante, e soprattutto è importante per me, l'iscrizione, ragazzi, vi dovete iscrivere. Dai, voi che riguardate i miei video, perché io, ma posso sentire che vi metto proprio la statistica, qui sotto ve la metto, ve la faccio vedere. Venite a guardare i miei video, ma non siete iscritti. E dai, forza, forza Juve sempre fino alla fine, non molliamo, fiducia, fiducia, anche se con quell'essere in panchina, ma cerchiamo di riprenderci poco poco, poi abbiamo un'annata per mangiarci il fegato, scuogliarci tutto. Ragazzi, come al solito, vi auguro una buona giornata, e ci vediamo la prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.